Ciao a tutti ragazzi sono LukeofGamer07TV e oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo gioco Ragazzi vi consiglio assolutamente di installarlo E' veramente il top, è il top Si chiama Galaxy Attack Alien Shotter E' veramente figo, puoi si giocare giocatori singoli e molti giocatori Io sono arrivato a livello 6 ma è molto difficile, tu sei, vabbè, molto difficile Il livello 6 adesso ho appena approvato ed è difficile Praticamente tu sei un'astronave e devi sparare le altre astronavi, io sono questa verde Lo sparo non sarà sempre così Ti daranno dei potenziamenti mano a mano che... Devi prendere una cosa che ti dà dei potenziamenti, è difficile da spiegare Ok, allora, io intanto sono colunile Perché non... Ok Fra un po' mi sa che mi danno delle cose per... Per darmi dei potenziamenti perché non posso sparare sempre così Sì, non ti devi far sparare dai missili ovviamente Ah, io ho il fini per riparare Ah, ok Ok Ragazzi Sì, dobbiamo completare tutti questi dieci round Per passare al livello successivo E fidatevi che è veramente difficile Soprattutto nei livelli in cui c'è il boss Eh, in alcuni livelli, ok, meno male che mi danno questa astronave molto meglio Guardate che... quanto spara Poi vi faccio vedere anche altre astronavi che sono... Cioè, sono veramente... Shottero tutto Tutto quello che vedono Nell'ultima astronave però Mi sembra che si paga 30 euro per averci La prima costava 50, era in offerta, non mi ricordo Ah, un laggio laser potentissimo che distrugge qualsiasi cosa No, no, quella lì non la prendo Dai, potenziamenti Mi servono potenziamenti Siete... no, ma nei livelli 6 sono troppo tirchi, eh Troppo, troppo tirchi Guardate il punteggio In basso a sinistra 3... 4 mila Perfetto Sì, diciamo che conta anche... Oh, finalmente Ecco, devi prendere questo qua Ecco, questi qua Per farti aumentare lo sparo Adesso se vedete la potenza È di livello 3 Ma... mi sembra che raggiungi il livello 10 Non mi ricordo Guardate in basso Dove c'è il punteggio Il tempo Il livello E... la potenza Io sono adesso potenza 3 Già potenza 3 Spara dal dio Cioè... Veramente spara già bene Dai, è grande È un'altra potenza Siamo a potenza 4 Già potenza 4 Adesso spara Veloce Cioè, spara molto molto bene Ora Guarda Che piazza pulita Ok, siamo al quarto round Questo qui Ecco, qua mi son fermato È talmente... è difficile Perché le navi ti vengono incontro E come cavolo faccio È impossibile Beh... Non tanto è impossibile Perché l'ho superato Intanto potenza Stasera i ragazzi Grandi Grandi Stiamo andando veramente bene Ah, ecco dove mi ero fermato Io mi ero fermato qua Sì, ora ricordo Ora ricordo Aiaiaiai Mamma mia Eh no, no, è troppo difficile Troppo, 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 troppo Difficile Ok, livello 6 Round 6 volevo dire Oh mamma Allora in questo Che mi ero fermato Però mi ricordo Sì, sì Dovrebbe essere in questo Mamma mia Dai, dai, dai Sì Sì, sì, sì Potenza 8 Potenza 8 Ragazzi Potenza 8 Sì, mi sa che arriva anche Anche di più di 10 No, 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 no No, troppo vicino Troppo vicino Troppo, troppo, troppo Troppo vicino Troppo vicino Rivello 9 Dai, prendiamo questo qua Questo qui spara di più È vero, i meteoriti Oh mio Potenza massima, ragazzi Potenza massima Ok, dovrebbe essere l'ultimo Oh mio Dio Oh mio Dio Oh no 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 cavolo No Beh, spendo 2000 Monete Dai raga che ci riesco Dai raga che ci riesco Non può essere impossibile Round 10 su 10 Dovrebbe essere l'ultimo Dovrebbe essere l'ultimo Mamma mia No, ditemi se non è impossibile No Dai Dai eh Questa è l'ultima volta Oh no, devo prendere quella Astronave Sì, questa qui Questa, 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 questa Questa qui spara Spara tutto Spara tutto No C'era così riuscito Raga, c'era così riuscito Annaggia Non vale Beh dai però siamo stato Siamo stati bravi Vabbè almeno io sono stato bravo Non vedo che cosa avete fatto Avete solo guardato E messo mi piace Ragazzi, iscrivetevi al mio canale Se volete ancora vedere questo gioco Mettete like al video se vi è piaciuto E mettete anche la campanellina Per ricevere tutte le notifiche sul mio canale Ragazzi Io non metterò più la intro Perché se metto la intro Il video non mi carica su YouTube Non chiedetemi il motivo Quindi adesso non farò più Non modificherò più su video show il video Perché se no non me lo manda Ok, siamo ritornati di nuovo alla normalità Purtroppo Con potenza 1 Vabbè dai È fattibile Il livello 6 è fattibile Ma difficile Non è impossibile Perché qualsiasi livello è possibile Ma non impossibile È difficile È difficile Poi c'è anche la modalità hard La Io non Sì Se già non riesco a fare la modalità facile Figurati quella hard Quindi Non proviamo Non direi di non provarla mai Quella hard Sapete perché non prendo mai Quell'astronave Perché quell'astronave Tira missili talmente piccoli Che sono più grandi Le astronave Vabbè è ovvio Che sono più grandi Le astronave Però Ma allora sono scemo io Vabbè ragazzi Direi di andare a fare Multigiocatore Perché il livello 6 È troppo difficile Multigiocatore Andiamo a fare Gioco veloce Che che parla Scegli l'importo della scommessa Ma perché bisogna scommettere Mannaggia Niente 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 di niente Dobbiamo per forza Prendere oro Bisogna prendere oro Andiamo qui un attimo Su ricerca Reclamiamo questi 500 No questo qui non posso ancora Riclamare Ovviamente Obiettivo Vediamo cosa c'è Missioni giornaliere Reclama Perfetto Abbiamo 1835 Ah un altro obiettivo Scusate Adesso vi faccio provare Tutte le navi Tutte tutte le navi Vi faccio provare Allora Andiamo su Aggiornamento Dovrebbe essere Sì aggiornamento Vi faccio vedere Partiamo dall'ultima Questa Qui È veramente Il top dei top Guardate Guardate Li fulmina tutti Guardate Ditemi se non è Il top dei top Mamma mia Questa astronave È troppo Che Ecco perché Costa 50 euro Ha un laser Estremamente potente Cioè ragazzi Qui non ne scampa Manco un'astronave Cioè per dirvi Per dirvi La potenza Che ha questo Cioè sono subito qua Guarda Questa è l'astronave boss La distrugge Con Manco fa un colpo L'astronave boss Cioè Per rendervi conto Quanto è forte Questa astronave Andiamo a Pirate King Eh Questa qui È molto Meno forte Vedete È molto Meno forte Purtroppo Sì No Non l'ho visto Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Di lasciare Mi piace Se volete Ancora questo Video Ancora questo Bellissimo gioco Iscrivetevi Al canale Se ancora non l'avete fatto Mettete la campanellina Per ricevere tutte le notifiche Per gli aggiornamenti Del canale Ragazzi Questo video Eh sì Questo video Vi consiglio Assolutissimamente Di installare Questo bellissimo gioco Galaxy Attack Alien Shotter Perché è il top Dei top Per installarlo Basta che scrivete Giochi Giochi di astronavi E vi esce Galaxy Attack Alien Shotter E niente ragazzi Qui è tutto Ciao